Sì, non sono quello che pensate che sia, io mi sono dovuto travestire da qualcun altro per bloccare lo spettacolo, state commettendo tantissimi, milioni di peccati, pentitevi, vi vedo, tu hai peccato di acidia, tu di gola, tu di lussuria, padre, 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 ma se ce ne fosse una senza peccato potremmo continuare? No, questo non dipende da me, dipende dalla volontà del Signore, io sono padre Simone e sono intervenuto, mi sono dovuto camuffare per salire su questo palco, No, ma perché padre? Perché sono stati commessi un milione di peccati, tutti i peccati del mondo, tutti, pentitevi, la acidia, la lussuria, la gola, tutti! Padre, padre, si calmi, se no il cuore, padre, ma se ci fosse almeno una persona pura potremmo continuare? Non dipende da me, ma come? Dipende dalla volontà del Signore. E allora ci proviamo, affidiamoci a Madre Natura e che ce la mandi buona! Padre! Oddio, l'estasi, l'estasi! Padre, che dice il Signore? Padre, si sveglie! Il Signore che dice? Il Signore dice che può andar bene. Non è lui! Non sono ciò che pensate, io sono padre Simone e sono intervenuto questa sera, mi sono dovuto mimetizzare in questi palco. Ma perché? Perché siete un popolo di peccatori, avete tutti peccato stasera su questo palco. Ma non è vero! Tu, di lussuria, ti vedo gli occhi, tu la gola, la acidia, l'ira! Padre, padre, si calmi il cuore, il cuore. Sì! Se ci fosse una persona pura, senza peccato, potremmo continuare? Non so, non dipende da me, dipende dalla volontà del Signore, dalla volontà. E allora noi ci affidiamo a Madre Natura e che ce la mandi buona. Speriamo. Padre, è l'estasi, è l'estasi. Non sono colui che pensate che io sia. Io sono padre Simone e mi sono dovuto travestire in questo modo becero. Perché? Per poter fermare lo spettacolo. Perché sono commessi un milione di peccati su questo palco. Tu, vedo la gola nel tuo volto, tu la lussuria, la lussuria, tu la acidia e tu l'invidia. Padre, si calmi se no il cuore. Ma se ci fosse almeno una persona tra il pubblico senza peccato, potremmo continuare? Non dipende da me, dipende dalla volontà del Signore. E allora noi ci affidiamo a Madre Natura e che ce la mandi buona. Speriamo. Padre, padre. Che dice il Signore? Padre, padre. Il Signore di deluse. Se ne vanno lei di lui, ma non è lui. È vero. Non sono colui che credete che io sia. Io sono padre Simone e mi ho dovuto ricorrere a questo marketing genio escamotage per fermare lo spettacolo. Qui su questo palco sono stati commessi un milione di peccati. Io ti vedo la lussuria nei tuoi occhi, l'ira, la ciglia, la gola, la gola. Padre, è un attenzio di cuore. Padre, ma se ci fosse quel noceto, una persona senza peccato, si potrebbe continuare? Non dipende da me. Dipende dalla volontà del Signore. E allora noi ci affidiamo a Madre Natura e che ce la mandi buona. Padre, le vedo in testa. Padre, e dice il Signore? E dice il Signore? Il Signore dice che può andar bene. E allora prendete il vostro previario come voi insegnate. Padre, padre, le hai deluse. È certo che non solo io, non sono colui che pensate che io sia. Io sono padre Simone e sono dovuto intervenire, attuare questo stratagemma per fermare lo spettacolo. Sono stati commessi un milione di peccati. No, la gola, tu la lussuria, la ciglia, tu l'ira. Ah, padre, no. Ma il cuore, si calma un attimo. Ma se ce ne fosse una qui a Ripetre Castelli, senza peccato, potremmo continuare? Non dipende da me. Dipende dalla volontà del Signore. E allora noi ci affidiamo a Madre Natura e che ce la mandi buona. L'estasi di Santa Caterina. Padre, padre, che dice signore? Possiamo continuare? Che dice? Il Signore dice che va bene. E allora prendiamo tutti insieme il breviario come vi ho insegnato stamattina alla pagina 5. Aspetta, padre, è una festa. Ma non è il nome. È vero. Non sono colui che pensate che io sia. Ma io sono dovuto intervenire su questo palco di miscredenti, di ambollutori, di peccatori per fermare lo show. Perché sono stati commessi un milione di peccati. Tu, Lira! Tu, la città, tu! Tu, la tira, non volosa! Non è... Padre, ma... Ma... Si calmi il cuore. Ma se ci fosse qui, a Lido di Fermo, una persona senza peccato, potremmo continuare? Non dipende da me. Dipende dalla volontà del Signore. E allora noi ci affidiamo a Madre Natura e che ce la mandi buona. Padre, padre, che è l'estasi di Santa Caterina? Padre, padre, che dice il Signore? Il Signore dice che può andar bene. E allora prendete...